Consigli al fantacalcio per la giornata numero 38. Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Siamo all'ultima giornata, alla giornata numero 38. Qualcuno si sta giocando tutto in quest'ultima giornata. C'è chi ha già vinto, c'è chi ha già perso. Ma voglio comunque congratularmi con voi per continuare a supportare questo canale guardando i video, nonostante siamo a fine campionato. 38esima giornata e tanti magari siete fuori o avete già vinto o siete sul podio e non potete in alcun modo migliorare la vostra situazione in questa giornata. E a voi che dico grazie e vi invito subito a lasciare un bel like che tra le altre cose ricordo anche portafortuna per la vostra squadra al fantacalcio e un pizzico di fortuna sicuramente male non fa. Attenzione a questa 38esima giornata perché il turno è veramente molto molto delicato e particolare. Termina domenica, fortunatamente. Però inizia giovedì. Inizia giovedì alle ore 20.45. E questa è una situazione stressante che andiamo tra pochissimo ad analizzare. Prima però, ricordo, se non siete iscritti al canale, iscrivetevi. Molto importante anche per voi per restare aggiornati su tutti i contenuti che usciranno su questo canale a tema. Fantacalcio. In descrizione trovi il link per abbonarti a questo canale. Si parte da 1,99€. Ci sono tanti vantaggi. Attenzione. Sto organizzando i fantacalci con gli abbonati del prossimo anno. Ci sono dei posti sicuramente per il mantra in questo momento. Abbiamo chiuso il primo classic. Se ci saranno le iscrizioni faremo anche un secondo classic. Se ti interessa fare un fantacalcio con me, prendo dal tuo posto da ora facendo l'abbonamento livello pro da 3,99€ al mese. Altra cosa, ragazzi. Ricordo, in descrizione c'è anche il link di Fantalab. Se vi registrate con il mio link e poi in estate decidete di fare il premium, avete 5 ore di sconto. Se siete già iscritti su Fantalab, come ottenere lo sconto per la versione premium? Utilizzando il codice di sconto Fantavirus. E ne approfitto anche per farvi vedere subito una magliettina che mi hanno inviato gli amici di Calcio Zox. Innanzitutto, che cos'è Calcio Zox? È un sito dove potete acquistare maglie da calcio a basso prezzo. Ve le faccio vedere. Vi faccio vedere quella che mi hanno inviato. E mi sono fatto inviare questa qui. Napoli, senza nome. Napoli con lo scudetto. So bene che l'Inter è appena diventata campione d'Italia. Però, questa è una maglia, a mio avviso, storica. Che bisogna sicuramente avere. Le maglie su Calcio Zox sono fatte molto bene. Sono di buona qualità. E hanno comunque un prezzo molto basso. Circa 26 euro l'una. E attenzione, utilizzate il codice di sconto Virus per avere il 10% di sconto sul vostro carrello. Detto questo, ragazzi, partiamo con la nostra analisi. Entriamo nel momento clou di questo video. E ci tengo comunque a fare un piccolo disclaimer. In quanto questa è una giornata particolare, delicatissima. E a volte, magari, potrebbe sembrare che quasi andiamo più che a consigliare il giocatore. Andiamo a consigliare la situazione. Perché è molto importante, a mio avviso, saper leggere queste partite. Sui giocatori che possono far bene. Sui ruoli che possono far bene. Più che sui singoli giocatori. Perché sappiamo bene. La trentottesima giornata è una giornata dove c'è tanto, tanto turnover. Prima partita. Cagliari contro Fiorentina. E quindi qui abbiamo già due squadre che i Cagliari, salvo. Non ha nulla da chiedere in questo campionato. E la Fiorentina che ha qualcosina da chiedere. Perché deve blindare l'ottavo posto. Che vorrebbe dire conference certa. Se va bene anche Europa League. E poi mercoledì c'ha da giocare la finale di Conference League. Quindi comunque c'ha un impegno. Mi aspetto comunque una Fiorentina che magari non mette tutti i titolari. Ma che possa fare un minimo di turnover. Perché conosciamo anche abbastanza bene Vincenzo Italiano. È un allenatore che il turnover lo fa. Ne fa veramente tanto, tanto. Come pronostico, infatti, vedo una gara tirata. E ci ho messo un 1-1. E i giocatori consigliati con certezza sono pochi. Perché nel Cagliari possiamo puntare su un Mina che è un ex. Un Mina che già la scorsa voleva prendersi anche in rigore al posto di Lapadula. Quindi è un qualcosa comunque di importante. In questo momento Lapadula non ce lo danno come possibile ai titolari. Ed è forse l'unico nome che riscua con estrema certezza. Però attenzione. Perché sui giocatori di Cagliari e Fiorentina. Ve lo faccio ora il discorso. Prima di parlare dei giocatori della Fiorentina da puntare principalmente per questa giornata. C'è da dire che, essendo questa giornata delicata, che parte di giovedì e termina domenica, è diversa da quando si parte il venerdì e si finisce il lunedì. Perché noi partiamo il giovedì, dobbiamo mettere la formazione del giovedì, e abbiamo sei partite che giocano la domenica. Sei partite di cui sappiamo poco e nulla. Mentre quando si parte il venerdì abbiamo una partita il lunedì di cui sappiamo poco. Quindi il consiglio generale per Cagliari e Fiorentina è se dobbiamo coprirci, copriamoci. Se dobbiamo coprirci, mettiamoli in panchina ai giocatori loro che sappiamo che giocano titolari perché ci saranno le formazioni ufficiali. Se dobbiamo coprirci perché stiamo rischiando, mettiamoli addirittura titolari. Usiamo, ragazzi, il cervello. Non è questo il momento in cui bisogna rischiare. Per quanto riguarda la Fiorentina, vi dico, i giocatori offensivi principalmente sono i consigliati. Il Tridente, Trequartisti, Bonaventura, Nico González, ma anche i vari Barak, Iconeli, Attaccanti, Inzolab, Eltrambelotti, Quamè. In base a chi gioca, ragazzi, chi gioca può far bene. Chi gioca si schiera al fantacalcio. Andiamo alla seconda partita. Genoa contro Bologna. Due squadre che non hanno nulla da chiedere in questo momento al campionato del Genoa. Salvo, metà classifica, Bologna qualificata in Champions e nessuno può togliergli quel posto. Mi aspetto quindi una gara che possa riservare qualche sorpresa. E la sorpresa può partire proprio dal pronostico con 2-1 per il Genoa. In un Genoa dove vado a consigliare sicuramente Gudmundsson, sicuramente Retechi, ma vi dico, occhio a questi due difensori Vasquez che sta facendo molto bene, e anche Sabelli, che potrebbe fare un qualcosa di interessante. Per quanto riguarda il Bologna, Poscio si schiera. Attenzione a Calafiori. Due gole all'ultima, che non c'è due senza tre, se neanche a questa, attenzione. Orsolini. Io ho un posto per lui, proverei sempre a trovarlo. E Salema Kers. Volendo, se non avete alternative, Odgaard da scommessa ci può stare. Juventus contro Monza è altra gara dove abbiamo due squadre senza obiettivi. Juventus qualificata alla Champions, Monza da metà classifica. Mi aspetta un 2-1 Juventus, con una Juventus che magari riesce a tornare alla vittoria. In questo momento però, consapevole che queste due squadre possono fare un po' di turnover. Vi dico, Blaovic chiesa certezze di questa Juventus. Gli altri reparti da valutare un attimo, perché possono esserci purtroppo per noi delle spiacevoli sorprese. Per quanto riguarda il Monza colpani e la certezza, occhio alle scommesse di Uric, ma soprattutto da Di Mota. Ricordiamoci, lo scorso anno contro la Juventus ha fatto il devasto. E occhio anche a Pessina, rigorista e capitano di questa squadra. Andiamo a Milan contro Salernitana. Anche qui, due squadre che non hanno nulla da chiedere. Milan, secondo posto, qualificato in Champions. Salernitana, ultimo posto, retrocessa. Ho messo un pronostico forte, un 4-0, ma per enfatizzare un Milan che per me può essere molto propositivo, che può andare tanto in avanti, un Milan che mi aspetto con Teo, con Leao, quindi che torna con i titolari, e sono due nomi da mettere. Si schiera sicuramente Pulisic, poi vi dico Olivier Giroud. C'è qualcuno che ha il dubbio? Olivier, si schiera. The last dance con la maglia del Milan per Olivier Giroud. E per me, i rossoneri faranno di tutto per far segnare Giroud. E quindi Giroud si schiera. Nella Salernitana non voglio schierare nessuno al fantacalcio. Andiamo adesso ad Atalanta contro Tirino. Allora, l'Atalanta ha ormai blindato il posto in Champions, e questa sera poi avrà la finale d'Europa League, che probabilmente può andare a cambiare l'esito di questa gara. Però, insomma, mi aspetto comunque una gara buona, interessante, con un Toro che invece è ben motivato a far bene. Perché, se va bene, con il nono posto riesce a qualificarsi in Conference, o addirittura ad agguantare l'ottavo posto. Comunque, nell'Atalanta, in questo momento, purtroppo, non abbiamo tante certezze a causa di questa finale, che giocherà questa sera contro il Bayer Leverkusen. In questo momento vi dico, i giocatori offensivi, cioè De Ketelare, Miran, Scamacca, Lukman, Kupmeiners e De Bilal Touré, sono da mettere, assolutamente, al 100%. Tutti e sei i nomi che ho fatto, certo, con copertura, ma vanno schierati. Del Toro, fiducia assolutamente a Zapata da ex, già l'andata ci ha segnato. Vela Nova, Rodriguez, buongiorno. Il pacchetto difensivo magico del Toro, utile anche al fantacalcio. Andiamo adesso a Napoli contro Lecce, e qui scopriamo se il Napoli vuole o non vuole andare in Europa per questa stagione. Pronostico 2-0 Napoli. Parto da Lecce, dove vi dico solo Patrick Dorgu, che è comunque difensore che gioca sulla linea dei centrocampisti. Bisogna approfittarne per chi lo ha al fantacalcio. Napoli in difesa. Raccomagno Rivera di Lorenzo. Nomi positivi, interessanti, possono far bene. Tridente politano Simione Quara consigliato. Occhio anche a Raspadori, che può contendersi il posto con Simeone, ma io dico soprattutto occhio nuovamente a Victor Rosimane, che in questo momento non lo danno nelle probabili formazioni. Sta cercando di recuperare, e per me farà di tutto per recuperare. E ricordiamoci, i giocatori importanti in questa giornata vanno schierati. Ma soprattutto, alla Olivier Giroud, potrebbe essere l'ultimo ballo con la maglia del Napoli per Victor Rosimane, potrebbe salutare magari in grande stile il pubblico partenopeo. Andiamo adesso a Empoli contro Roma, una gara dove c'è del mordente. La Roma che ha chiuso al sesto posto, quindi deve solo spierare in un'Atalanta che vinca l'Europa League per consegnarle la Champions. L'Empoli invece deve vincere per salvarsi. Ed è proprio per questo che vi dico. Luperto, capitano, ultimo baluardo di questa squadra si schiera. Occhio a Simone Bastoni, che gioco avanzato può far bene. Occhio agli inserimenti di Malea a centrocampo. Cambiaghi, da carta pazza, e invagli e niang, da confermare dopo il gol sul rigore all'ultima. Nella Roma, fiducia ai più offensivi. Pellegrini e Sharawi di bala. Non c'è Romelu Lukaku? Si dice Baldanzi falso 9, ex. Ma per me è un ex che non va. Un giocatore superfluo in questo momento nella Roma. Una Roma che potrebbe anche fare un po' di turnover. Altra partita importantissima. Frosinone-Udinese. Quasi una spareggio salvezza, perché sono due squadre che devono salvarsi. Due squadre che stanno lottando. Possiamo aspettarci una gara spettacolare. Soprattutto, fino a che non si sblocca, diciamo. Perché all'inizio le squadre possono essere un po' coperte, poi una volta che si sblocca questa gara, prende il volo anche a livello di bonus. Due a due come pronostico. E i consigliati sono più nel Frosinone che nell'Udinese, vi dico. Troviamo Zortè in difesa. Brescianini e Raui a centrocampo, che possono far bene i centrocampisti interessanti. Sule che diren attacco nell'Udinese. Samartic e Lucca. Occhia a Pereira, che purtroppo non sta benissimo. Lazio contro Sassuolo. Due a zero di pronostico. Lettura per me facile. Sassuolo retrocesso. Sassuolo demotivato. Lazio può approfittarne. Schieriamo tanti nomi della Lazio. Fiducia a loro. Partendo dai tre difensori centrali. Patrick, Gila, Romagnoli. Che sono loro. Quindi non mi aspetto grande turnover. Fra i difensori centrali. Si può mettere Marusic. Si mette Zaccani. Si mette Kamada. Si mette Felipe Anderson all'ultima partita con la Lazio. E si mette Ciro Immobile. Ma anche Tati Castellanos. Ultima partita. Verona contro Inter. Il Verona è salvo. Non mi aspetto quindi la partita della vita contro l'Inter. Possiamo provare la carta Noslin. Scommessa esotica che segna le big. Ci può stare. Ma va valutata in base alle alternative. Nell'Inter. Che ve lo dico a fare. Turam, Lautaro, Shalanoglu. Nomi banali. Vi dico. Occhio a De Vrij. Danfis. Bisse. Carlos Augusto. Frattesi. Arnautovic. Ma anche Audero. Sono nomi che potrebbero trovare un po' più di spazio in quest'ultima giornata. Che potrebbero giocare dal primo minuto con un po' di turnover che magari può andare a fare Simone Inzaghi. Detto questo ragazzi. Per oggi è tutto. Vi saluto. Vi ringrazio per aver guardato questo video e supportato il canale per questa annata fantacalcistica. Mi raccomando. Se non l'avete fatto. Like al video. Iscrizione. Noi ci vediamo domani con la top 11 per la trentottesima giornata. Non mancate.